Sono molto contenta di intervenire in questi eventi perché i bambini che fanno sport sono sempre un piacere da vedere e li trovo sempre molto divertenti. Ho pensato di fargli fare il mio riscaldamento, visto che la corsa non è uno sport così divertente, così spassoso, ho pensato di fargli vedere una porzione del mio allenamento, quella che viene prima dei lavori importanti, quindi li farò fare un po' di corsa, un po' di esercizi e poi sentirò cosa vogliono fare loro perché il bello è interagire. Sono giovanissimi, quali consigli per lo sport alla loro età? Di fare sport, qualsiasi sport, non fissarsi su uno, nel senso che la specializzazione eccessiva in giovane età, lasciando perdere i discorsi fisici e fisiologici, secondo me forse stufa un po'. E quindi l'importante è che si divertano, che cambino, che imparino molte abilità diverse e che siano sempre invogliati a continuare a muoversi. I ragazzi coinvolti sono stati in media 20-24, abbiamo proposto tante attività sportive, siamo partiti dal pallavolo, dal tennis, al rugby, il crossfit, il pop e tante altre se ne viene in mente. E sì, è stato molto divertente, siamo molto orgogliosi della riuscita e oggi la sorpresa di Emma Quaglia direi che è fantastica. Solo lo sport ma anche altri aspetti importanti della vita? Sì, abbiamo lavorato con loro anche con dei laboratori diversi, avremo un laboratorio musicale settimana prossima, uno letterario, l'abbiamo appena fatto ieri con la scrittrice Isabella Nicora e poi degli incontri con persone con altre realtà. Abbiamo avuto anche come ospite la ciclista parolimpica Eleonora Mele, che è stata con i nostri bambini, ha fatto un'intervista, ha fatto provare le sue bici e ieri il nostro ospite è stato Vincenzo De Fazio, il nazionale di calcio amputati. Un valore importante, ancora più quest'anno, dove si è trattato di far muovere i bambini e le bambine dopo un periodo di lockdown. È stato secondo noi un lavoro importante, quello che è stato fatto con i bambini, la risposta è stata ottima, i bambini sono contenti, continuano a lavorare nonostante la stanchezza e il caldo e direi che è stato un aiuto anche per i genitori. Siamo iscritti al campionato di prima categoria, è questo campionato che spero, ci auguriamo tutti di riuscire ad iniziare il prima possibile. Abbiamo allestito una rosa praticamente al completo, adesso il mercato è già stato fatto dal direttore sportivo Federico Rigo, che è tornato con noi quest'anno un gradito ritorno perché insieme a me, a Roberto Toriaglio, ovviamente al presidente Piero Graffione e a Raffaele Babiglia abbiamo fondato insieme questa società. Quest'anno è tornato con noi, nostra gioia, si è messo subito a lavoro col mister Scala che è arrivato quest'anno nuovo, gran persona, mister di esperienza, allenato in alte categorie. L'ossatura grossa dell'anno scorso è rimasta. Sono arrivati ragazzi importanti, sia dal punto di vista giocatori che anche come persone. Sono tornati anche ragazzi che sono stati con noi negli anni passati per voler ricostruire e comunque portare avanti quello che è l'ambiente Caderissi che praticamente è sempre nato, è sempre esistito da quando abbiamo fondato questa società. Una sorta di, il presidente dice sempre, una famiglia. Cioè ci piace creare un ambiente dove i ragazzi abbiano il piacere di venire ad allenarsi, divertirsi, stare bene e penso che in questi anni, ormai otto, ci siamo bene o male sempre riusciti. La prima scuola naturalmente si compone anche di quelli che sono gli sforzi profusi per la costruzione di un settore giovanile di qualità. Il nostro campo principale, c'è anche il nome, è Molasan, Caderissi, Boero, dove gioca la prima squadra. Poi abbiamo questo impianto qua, il Blandino, dove sono le leve più piccole. Partiamo come sotterroio giovanile dall'eleva 2015 fino ad arrivare ai grandi, quindi allievi e tutto. Abbiamo una Juniores che quest'anno viene affidata a Dermanno, Pastorino, grandissima persona, un allenatore anche lui di grande esperienza, che è con noi già da un po' di anni, col quale stiamo vedendo di portare avanti un discorso di costruzione proprio volta ancora di più, ad aumentare ancora di più questo passaggio tra prima squadra e settore giovanile. La Juniores da questo punto di vista qua è fondamentale. Abbiamo un forte sviluppo anche su quello che è il calcio a cinque, dove l'anno scorso con grande soddisfazione sia stata l'unica squadra italiana a livello dilettantistico a portare due leve alle finali nazionali. Poi altri settori, abbiamo il calcio femminile, abbiamo anche una WISP, gli allenamenti vengono eseguiti qua, questo campo qua lo sfrutta anche la prima squadra per fare magari un terzo allenamento infrasettimanale. E poi ci alleniamo anche giù alla Canova, dove si allenano anche le leve più piccole. Abbiamo una società che cuba più o meno 250 ragazzi e una cinquantina, sessantina di dirigenti. Progetti importanti e ambiziosi, ci sono anche delle manifestazioni che è organizzata annualmente. Abbiamo il torneo Blandino, che purtroppo quest'anno non abbiamo potuto svolgere, ci rifaremo. E poi il Cade Sango, che forse è quello che dovremmo riuscirlo a farlo, perché in autunno di solito lo organizziamo, quindi quello probabilmente ce la facciamo. Abbiamo organizzato anche un memorial per Danilo, tornato là negli anni scorsi, che è stato il nostro giocatore in passato. Come vi siete comportati durante il lockdown? Mi ha rispettato quelle che erano le regole, devo dire anche sentendo, io principalmente mi occupo soprattutto dei ragazzi della prima squadra, sentendo loro, comunque anche loro sono stati nel rispetto delle regole, qua è rimasto ovviamente tutto chiuso e anche sua, Molasana, comunque anche con Molasana che gestiva è rimasto tutto chiuso, finché poi piano piano non siamo riusciti a ripartire. Si parla di fine settembre, vediamo, noi siamo pronti. Il calendario per la preparazione, il mister l'ha già fatto, l'ha già comunicato ai ragazzi. partiremo, partiremo come sempre a livello di prima squadra con Coppa Liguria e campionato, poi vediamo, speriamo quest'anno di finirlo il campionato.